La parola tessiture si riferisce al tratto del disegno, quindi alla ripetitività delle linee, alla zigrinatura, ai vari riempimenti. Prebiotico significa letteralmente prima nella vita, perché con questi disegni che non hanno un titolo ma hanno un tema comune, io in qualche modo cerco, non so se riesco, di ricalcare quella limbo che esiste tra la vita e la non vita, cioè tra la materia grezza, inanimata, e invece la materia che si organizza e che diventa qualcosa di vivo, appunto, di biologico. E quindi queste forme, queste concrezioni, sono qualcosa che in un certo senso anticipa la vita, cioè un organismo, complesso, semplice che sia, che poi vive, si replica, si duplica e eventualmente si modifica e evolve. Per esempio questo disegno, che è uno dei più vecchi, ha più di, dunque questo ha 32 anni, ha una linea in alto a sinistra, che fa il paio con questo corpo in basso a destra, quello in alto a sinistra è questa, insomma, un'entrata e un'uscita. Allora, questo in qualche modo ricalca il flusso dell'energia. In termodinamica, per chi conosce la termodinamica, il secondo principio della termodinamica, il flusso dell'energia tende a equilibrarsi, cioè tende ad appiattire le differenze. Però cosa succede? Durante questo flusso capita che l'energia si organizzi e favorisca il suo stesso passaggio. Questo è ben nome della termodinamica e prende il nome di struttura dissipativa. Quando l'energia si organizza, viene dissipata più velocemente, appiattisce più rapidamente le differenze e forma, appunto tra l'energia e l'uscita, quella che si chiama struttura dissipativa. Ognuno di noi, ogni organismo biologico o la biosfera del suo insieme, è una struttura dissipativa. Non voglio rappresentare niente, nel senso che mi lascio trasportare senza, almeno spesso, senza un progetto preciso. Quindi non ho un'intenzione aprioristica di rappresentare qualcosa, però so già in partenza che tutti quanti ricalcano il tema che ho appena illustrato. E anche per questo non ho dato un nome, perché è come dare un nome ai batteri, a un ceppo piuttosto che a un altro. Trattandosi di arte non avrebbe molto senso. Sì, potevo farlo, ma lascio che il nome lo decida di guarno. Ecco, assomiglia più a questo, assomiglia più a quell'altro.